Il grande concerto di musica sacra vivaldiana del Teatro di Ferrara è un concerto che potremmo dire ha più dimensioni, è un concerto tridimensionale, non è soltanto un concerto. La musica è la prima dimensione, la dimensione essenziale, perché si basa tutta su un autore, Don Antonio Vivaldi, e di quest'autore il vertice della sua produzione, la musica sacra, quello che di meglio lui è riuscito a dare durante la sua parabola artistica. La musica sacra di Vivaldi è qui rappresentata con due capolavori che sono lo Stabat Mater, siamo in periodo di Pasqua e quindi il tema è strettamente attinente, quindi il compianto della Vergine sotto la croce dove sta morendo il figlio, lo Stabat Mater per Contralto e d'Archi, una delle pagine più toccanti della produzione vivaldiana, e altro polo musicale è il grandioso Dixit Dominus RV 594, un salmo guerriero luminosissimo in doppio coro, doppia orchestra e solisti, quindi una delle pagine più complesse e più ricche della grande tradizione policorale veneziana. Ecco, intorno a questi due grandi poli ruota tutto e ruota la seconda dimensione del concerto, è la dimensione visuale, la dimensione storico-artistica. Ci sarà il professor Vittorio Sgarbi che con la sua facondia e con la sua grande preparazione illustrerà alcune opere visuali, alcune opere dell'arte visiva del passato, coeve alla musica che ascolterete e legate a questi due grossi temi, quindi Stabat Mater e Dixit Dominus. Vedremo quindi proiettate queste opere d'arti con la preziosa Esegesi di Vittorio Sgarbi. La terza dimensione che fa da cornice a tutto questo ricco piatto artistico è la dimensione teatrale. Sebbene sia un concerto di musica sacra, non viene eseguito in chiesa, non viene eseguito in un oratorio, bensì in un teatro, un teatro d'opera. E come in ogni teatro d'opera che si rispetti, sarà allestita sulla scena una scenografia che renderà, diciamo, tutto questo molto più che un concerto, bensì appunto un qualcosa di teatralizzato. Quindi siete tutti invitati e naturalmente molto molto sollecitati da questa ricchezza visuale e sonora a venire ad ascoltare il concerto vivaldiano del teatro di Ferrara. Vi aspetto.